Lei questo pesce lo sta telecomandando? È vero, è la novità dell'anno, io credo che dopo la lampadina è l'invenzione più spettacolare che ci sia al mondo. È lui il nemo telecomandato che arriva dagli States, il protagonista, ad eccezione di questa non edizione di Natale in Fiera. È tornato infatti ad aprire i battenti nel quartiere fieristico di Galatina, dove rimarrà per quattro giorni. Sono cento gli espositori che mettono in bella mostra oltre 40.000 articoli, cifra vincente a quanto pare, visto che l'edizione 2010 ha fatto lo stesso numero di visitatori. A questo si punta e l'affluenza della prima giornata sembra essere promettente. Aspettiamo di confermare i numeri dell'anno scorso, che sono i 40.000 visitatori e la presenza di migliaia di bambini. Quindi consigliamo di fare un salto in fiera per poter scegliere con cura e con un occhio anche al bilancio, perché la crisi c'è, i propri regali natalizi. Dalle ceramiche e carillon, dagli intramontabili giocattoli, alla gastronomia, passando per il vestiario e gli articoli per la casa. Ed è regalo per tutte le tasche, fino alle crociere con i prezzi speciali per la fiera. C'è davvero un mondo qui da approfittarne. Fino a domenica.